A guardarlo bene viene voglia di correrci o magari di prendere un pallone tra i piedi per giocarci. È lo spazio che si apre davanti agli occhi di ogni visitatore all'interno dell'azienda agricola Le Terre di Maluc del presidente Andrea Marinelli e dove l'ancona di mister Massimiliano Favo sta svolgendo la preparazione fisica in vista della prossima stagione di Serie D. 5 ettari nella frazione Le Cozze nel comune di Monte San Vito, un campo regolamentare di calcio a 11, poi uno di calcio a 8 al quale se ne affianca un altro di calcio a 5, poi tutto attorno aria pulita, tranquillità e tanto verde con aiuole che separano le varie aree, ce n'è una per i giochi di bimbi, ci sono le coltivazioni di prodotti locali, c'è un'aria relax sotto un gazebo, c'è un sentiero dove sorgerà un percorso benessere e poi due casolari con impianti fotovoltaici installati sul tetto, uno per l'accoglienza e la ristorazione e uno per la vendita di marmellate, olio, vino di visciole. Un paradiso, se non fosse che i biancorossi ci stanno sgobbando, una struttura che assomiglia quasi ai migliori centri sportivi a disposizione delle squadre di calcio di Serie A e che infatti ha subito scaldato il cuore di un perfezionista come Mr. Favo. L'erbetta dei tre campi ha subito in questi giorni un'opera di manutenzione perché colpita da un fungo che ha seccato alcune zone, un piccolo intoppo, non grave, per il resto calpestare il terreno è un piacere, i giocatori dell'Ancona godono al pensiero di poterci si allenare e Marinelli Gongola, ammirando una volta ancora la sua opera, costata quasi 3 milioni di euro di investimenti e che dovrebbe essere ufficialmente inaugurata entro il gennaio 2012. Ma di sicuro un ambiente come questo può contribuire già da oggi alle fortune sportive dell'Ancona.